Desideriamo essere vicini alle centinaia di lavoratori dello stabilimento Saffilo di Longarone che quell'azienda, la Saffilo, ha deciso di abbandonare. Al loro destino si cercano soluzioni, come sapete, per fare in modo che quei lavoratori possano trovare di nuovo occupazione anche dopo, in un futuro senza Saffilo. E come sappiamo circa la metà dei 400 e passa lavoratori saranno assunti da Telios e si lavora per collocare gli altri 200. Pensate, pensiamo, ricordiamoci quante famiglie in questo momento sono in tensione e lo sono da mesi per una trattativa che non riesce ad arrivare a conclusione ottimale in cui Saffilo ha ancora una parte perché i contatti sono ottenuti, per esempio con l'imprenditore udinese Fulchir, sono tenuti proprio da Saffilo in una situazione in cui i sindacati non vedono chiaro. Salvataggio Saffilo, il tavolo si spacca. È il titolone che leggiamo da pagina 10 del Gazzettino di Belluno, ore di confronto in regione con l'investitore friulano di Innovatec, che poi sarebbe, la ditta si chiama Innovatec, ma l'imprenditore è questo Carlo Fulchir, che ribadisce l'impegno di assumere lui i 208 lavoratori che Telios non è in grado, si dice, non essere in grado di riassorbire. Ma i rappresentanti della CGL non si fidano e chiedono che sia Telios a rilevare tutto e oggi diserteranno l'incontro, cioè oggi c'è un tavolo, una riunione vuol dire per la trattativa e il sindacato della CGL rompe e non andrà al tavolo, rompe il clima di trattativa perché le posizioni sono troppo divergenti. Allora, vi leggo solo l'ultimo paragrafo di questo articolo di Lauredana Marsiglia dal Gazzettino di Belluno. Il mio invito è sempre il solito. Noi vi anticipiamo qualcosa di questi articoli che compaiono sui nostri giornali quotidiani della provincia di Belluno, poi tocca a voi andare ad acquistarli, andare in edicola, andare a comprarli, perché è solo così che rispettiamo il lavoro di chi ha raccolto questi approfondimenti. In questo caso, ripeto, il Gazzettino e Lauredana Marsiglia. L'articolo si conclude così. Domani sarà la volta delle assemblee con i lavoratori, prima della chiusura per le tre settimane di ferie e da quanto è dato sapere, Saffiro non sarebbe più intenzionata a riaprire. Pensate, pensiamo, proviamo a metterci... Ho cominciato questa rassegna stampa così perché credo che sia doveroso provare a metterci nei panni di questi poveri lavoratori e delle loro famiglie. Fulchir, l'imprenditore di Udine quindi, promette un investimento di 10 milioni di euro rilevando il reparto di finissaggio fiore all'occhiello dello stabilimento denominato Longarone 2. Telios invece annuncia investimenti per 12 milioni rilevando Longarone 1, ovvero mirando prevalentemente alla galvanica. Assieme, Telios e Fulchir assorbirebbero tutti i lavoratori, ma su un arco di tempo che va dai 24 ai 36 mesi, che vuol dire che una buona parte di questi lavoratori resterebbero a casa per un anno, per un anno e mezzo, e bisogna capire come fare per gli stipendi. Resta da capire cosa dirà oggi Saffilo, ovvero se sarà disposto a farsi carico di integrare le indennità di cassa integrazione che restano ampiamente al di sotto di uno stipendio. Vedete che io personalmente trovo, vorrei dire scandaloso, che questa azienda che ha un obbligo sociale, un onere sociale rispetto a queste centinaia di nostri concittadini bellunesi, questa azienda abbia la libertà di decidere che si molla Longarone, pur avendo i conti in ordine sostanzialmente, perché conviene di più fare altrove, produrre altrove. E ha ancora voce in capitolo importante su come dovrà essere il futuro di uno stabilimento non suo di fatto, insomma, che ha intenzione di mollare. Violetto, dopo le ferie, probabilmente non si torna più a lavorare alle dipendenze di Saffilo. Adesso scattano le tre settimane. Insomma, scusate l'insistenza su questo tema. Ci sono molte altre notizie oggi sui giornali, però davvero mi sembra che sia doveroso restare così, dare un segno anche di vicinanza a questi nostri concittadini che hanno questa grave sofferenza sulle spalle. Abbiamo cominciato così, dunque, la rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi è il primo agosto, oggi è martedì, primo agosto. Conducono, come sempre, i giornalisti dell'Amico del Popolo e oggi tocca a me, di Giulia Elmi, farvi vedere quali sono le principali notizie. Sfogliando indietro il giornale, poi andiamo a vedere la prima pagina, l'apertura di Feltre la facciamo, la vediamo, con una fototrappola, la foto è scattata da una fototrappola che era stata messa dai cacciatori di Feltre nella zona di La Zen, che credo sia proprio in comune di Feltre, era una fototrappola che doveva servire a catturare i cinghiali di passaggio. Invece chi ha catturato? Ha catturato un orso. E non è successo una volta, è successo più di una volta. C'è un orso, forse c'era un orso, che girava dalle parti di La Zen, Feltre. Le informazioni che ci danno gli esperti sono che non si tratta di un orso pericoloso, perché è sicuramente un maschio, i maschi non hanno cuccioli con sé, quindi non si possono verificare quelle situazioni di pericolo e di attacco, non si dovrebbero verificare quelle situazioni di pericolo e di attacco, che anche l'altro giorno sono accadute in Trentino, quando dei cacciatori sono stati assaliti da una mamma orsa con un cucciolo, lo avrete letto sulle pronache, vi sarà arrivata la notizia. Ecco, in questo caso qui si tratta di un orso di passaggio, un maschio di passaggio. Orso vicino alla città è di passaggio, dice il titolone di pagina 8, catturato, catturato tra virgolette, dalla fototrappola di un cacciatore nella zona di La Zen, il 26 luglio, quindi l'altro giorno, si è fermato una settimana. La polizia provinciale dice che si tratta di un esemplare maschio in dispersione, dicono i tecnici, cerca femmine non presenti sul suo territorio. Hanno sentito quelli del Gazzettino, i colleghi del Gazzettino, l'ex consigliere Franco De Bon, che è un consigliere provinciale, che è esperto di questa materia, aveva seguito proprio cacciapesca prima di decadere dal suo ruolo, l'ex consigliere Franco De Bon ricorda il primo avvistamento di specie di plantigredi fu nel 1995, quando arrivò Franz, era stato denominato così dalla Slovenia, e poi abbiamo avuto un orso di passaggio all'anno. Dire la verità, questo è già secondo, perché non è da molto che si sapeva di un passaggio nella zona dell'Alpago. Del solito orso si dice che frequenta i boschi al di là, i versanti verso Pordenone, però ogni tanto sconfina di qua e scende e è stato avvistato anche nelle zone alte di Vittorio Veneto. Allora, questo a pagina 8, come vi dicevo, di Feltre del Gazzettino, ma volevo tornare all'indietro e vedere quest'altro titolo «Ammazzate il lupo oppure noi pastori non torneremo più». Questa voce viene da San Vito di Cadore, non torneremo qui. Dopo l'ennesima razzia, la rabbia di Simon De Clara, non so come si chiama, 34enne alto attesino che da 15 anni porta i capi al pascolo sul Jau. Questa notizia va messa insieme a quelle che abbiamo letto nei giorni scorsi, delle prime autorizzazioni a sparare ai lupi con i pallini di gomma. Non dovrebbero farlo gli allevatori o i cacciatori, ma la provincia, i tecnici della provincia, nei casi di presenza di lupo troppo confidente, potrebbero cercare di allontanarlo. Sono autorizzati, saranno autorizzati ad allontanarlo sparandogli i pallini di gomma, però non si è ancora ben capito se questa cosa possa essere stesa all'intera provincia o se queste azioni siano limitate per ora all'Alpago e a un'altra zona nella bassa provincia di Belluno dove sono molto presenti i lupi. Altro titolo su cui volevo farvi attirare la vostra attenzione, leggerete su tutti i giornali, che la gara per trovare un'impresa che costruisca la nuova pista da Bob è andata deserta. Nessuna impresa ha accettato, ha colto l'opportunità del bando. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per ora i lavori non si fanno, si sa benissimo che c'è un'urgenza pazzesca perché i tempi sono strettissimi per fare la pista da Bob e ci sarà probabilmente una sola soluzione, toccherà andare ad una trattativa privata, a trattativa diretta e la trattativa con l'impresa vorrà dire che si potranno rivedere anche i prezzi e il titolone, il gazzettino, pagina 2, è questo, la pista da Bob costerà di più. Il bando è andato deserto, nonostante alcuni giorni fa alcune aziende avessero fatto sopralluoghi in area. Per accelerare i tempi si passerà alla procedura negoziata, ma probabilmente sarà necessario rivedere alcuni prezzi di fianco. Pagina 3, c'è il titolone sul ex villaggio Eni di Borca, di cui nella foto si vede solo una parte, mi pare che sia la parte dell'albergo questa, non si vede la colonia che è l'oggetto più importante su cui ci sono le attenzioni, villaggio, la provincia insiste, l'ideale è l'ex Eni di Borca, l'ideale per che cosa? Lo sapete ormai, lo sappiamo in memoria, l'ideale per realizzare il villaggio che ospiterà gli atleti, delle olimpiadi serve un villaggio da 1200 posti, Borca, l'ex Eni ha delle cubature vuote che potrebbero essere sistemate per ospitare circa 800 di questi atleti, andrebbero realizzate altre cubature, già in progetto, nel progetto iniziale, ci sono ancora i progetti del creatore del villaggio Eni di Borca, cioè l'architetto Gelner, ci sono già tutte le autorizzazioni ambientali, si potrebbe costruire lì per poi lasciare qualcosa che resti, invece attualmente l'intenzione è di fare il villaggio, lo ricordiamo a Fiammes, a Cortina, un villaggio che poi verrebbe smantellato il giorno dopo per una spesa di quasi 40 milioni di euro. Il Consiglio Provinciale ieri ha approvato all'unanimità un documento per chiedere lo spostamento degli alloggi per gli atleti, lo spostamento nel senso, lo spostamento rispetto all'ipotesi di fare Fiammes gli alloggi. Il Sindaco Sala, la cabina di regia, riveda la scelta e Padrin, Presidente della provincia, il progetto è sostenibile, cioè quello di sistemare Borca, non si consuma suolo, non si consumerebbe suolo. Insomma, capite che le questioni sono abbastanza rilevanti. Adesso andiamo a vedere la prima pagina del Corriere delle Alpi, come vedete il titolone principale di apertura è anch'esso sulla vicenda della pista da Bob, pista da Bob, gara deserta, ora la trattativa privata, strada sempre più in salita per la realizzazione del nuovo centro olimpico a Cortina d'Ampezzo. Intanto, il consigliere provinciale insiste, il consiglio, scusate, provinciale insiste, con l'adozione del documento di ieri, il villaggio olimpico venga fatto a Borca, nell'ex colonia Eni. Vediamo gli altri titoli, il comune perde 700 mila euro per i lavori alla Spess Arena, eh, questo non è bene, si è creata una modifica al progetto, con la cancellazione dei lavori sull'accessibilità dei disabili ai bagni e lo Stato ha revocato il contributo. Sette medici di base fanno le valigie, sono stati trovati, per fortuna i sostituti, Marcolin cresce grazie all'Asia, utili semestrali a 15,5 milioni di euro, CAI, qui c'è la foto di Dario Dell'Osbel, quindi CAI a Gordino, nel Mirino, i turisti, cafoni, bivacchi come hotel, Cortina, in zona stazione, sorgerà un albergo e prenderà il posto del supermarket e poi il taglio basso del Corriere delle Alpi che ha una notizia analoga a quella che abbiamo visto sul gazzettino, e cioè è dedicata alla foto, anche in copertina, all'orso fototrappolato nella zona di La Zen, un giovane orso nei boschi di La Zen non è pericoloso, c'è un orso che si aggira nei boschi sopra La Zen. L'animale, quasi certamente un giovane maschio in dispersione, è stato immortalato più volte nei giorni scorsi da una fototrappola installata dai cacciatori della riserva di Feltre addetti al controllo dei cinghiali. E noi con questa notizia chiudiamo qui per oggi la rassegna stampa di Radiopiave in blu, seguiteci su Radiopiave, seguiteci su www.amicodelpopolo.it Io, Luigi Guglielmi, vi auguro un buon martedì, state bene, mi raccomando col tempo, sarà il caso di non avventurarsi troppo in montagna nel pomeriggio perché è previsto un peggioramento, comunque già ora a Belluno mentre registro il cielo è coperto e non promette molto bene. Grazie a tutti, buona giornata, ciao!